La rapida visione ai vari reparti di una moderna fabbrica di giocattoli meccanici in legno ci mostra come i pezzi, dopo essere stati squadrati, disegnati e segati in diverse sagome, passano dalle macchine incavatrici alle legatrici. I più vari tipi di giocattoli che vanno dalla barca a vela al fuoribordo delle corassate, dai submergivi agli idrovolanti, dai carri folcloristici ai treni e alle automobili, dai cannoni alle bambole, dalle bestie feroci a quelle domestiche, nascono così a migliaia di pezzi e passano quindi alla colorazione e alla verniciatura d'aria compressa. Ed ecco il laboratorio dove si creano i perfetti congegni all'orloggeria che animano questi modernissimi giocattoli.